E da qui il tema e quindi il tentativo di recuperare il più possibile il valore, il valore di un corso d'acqua, ripeto, come elemento puntuale, quindi vedremo poi nella piccola realizzazione di Cendon, quindi di riconoscibilità e di un antico protendersi del centro verso l'acqua, a elemento molto più, a scala territoriale, molto più allargato che è appunto il tema della reinvenzione, quindi della riconquista di paesaggi di cava. Il corso d'acqua consente questo, consente di prendere anche dei luoghi fortemente alterati e negati fino a ieri, diciamo così, anche alla percezione, perché gli spazi di cava normalmente racchiusi dalla vegetazione tendono a essere nascosti, chiusi, isolati, cioè tendono a essere dei luoghi da non vedere, luoghi dove l'escavazione, lo sfruttamento dei bordi, della qualità appunto dei terreni diventa un commercio lo scofosco e quindi da non vedere. La rivalutazione di questi elementi, appunto perché il territorio della città diffusa e soprattutto di questo ambito che va dal centro della città di Treviso in direzione ovest, è costellato, è segnato da buchi d'acqua che ne diventano però la ricchezza, ricchezza che rimette in campo ancora una volta il fiume Sile, qui vedete nella parte sud, nella parte bassa dell'immagine, un tal sistema di forature d'acqua, quindi il problema delle cave, che diventano una risorsa attraverso cui costruire degli itinerari, delle relazioni, relazioni fatte di percezione ed usi, che rimettono in gioco uno spazio d'acqua come spazio urbano di qualità e che si riconnette appunto al corso d'acqua principale che è il fiume Sile. Solo in questo tratto, sono all'incirca 20 km, la densità delle cave sotto falda, scusate, in modo tale che appunto noi ogni volta vediamo l'acqua proprio per quel sistema di acquifero indifferenziato che vedevamo prima diventano una costellazione di opportunità che messe a sistema con i collegamenti viari fanno sì che questo territorio diventi si poroso ma anche qualitativamente attrattivo dal punto di vista delle relazioni. E questa è la sfida in un piccolo centro, siamo a Vedelago vicino a Treviso, di 9000 abitanti, in cui il tema dell'acqua ed il contatto con il fiume Sile viene portato alle estreme conseguenze diciamo così, insinuando l'ipotesi che uno scenario possibile possa essere appunto una guida nel tracciamento degli scavi dato dall'escavazione produttiva fino a disegnare dei nuovi paesaggi che diventano paesaggi sull'acqua. Questo mettendolo a sistema con tutte diciamo così le altre caratteristiche di valore ambientale e paesagistico che costituiscono appunto l'assemblaggio diciamo così culturale della parte della città diffusa del nord-est. Quindi mettendo a sistema ville, corsi d'acqua e elementi qualità che noi abbiamo ritrovato appunto in queste particolarità vedendo da vicino tutte le composizioni dei bordi che formano i laghi di Cava come appunto elementi da sfruttare. La prima azione è stata quella di appunto di rompere questo bordo, di tentare di rendere il più possibile questa acqua elemento di una quotidianità che non ne fa abitudine ma ne fa risorsa, facendoli diventare, questo è il piccolo centro di Vedelago, i 9.000 abitanti, facendolo diventare delle piazze che si connettono a un sistema poi di metropolitana leggera prevista e che quindi fanno diventare un territorio molto più permeabile, usabile, fruibile in tutte le sue diverse funzioni. Ragionando, torno all'immagine di prima, sui bordi appunto, su questo contenitore il silo è sempre qui vicino, è l'elemento a cui tendere, è l'elemento territoriale a cui riagganciarsi. Il contenitore è appunto il luogo, il bordo su cui lavorare, su cui l'operazione così di modifica del terreno avviene sfruttando i tempi e i modi di lavorazione, in questo caso degli escavatori, ragionando sui bordi più rigidi e più molli di un'escavazione che in questo momento nel progetto di reinvenzione di cava continua ad esistere, ma che usa l'operazione di escavo al fine di costruire nuovi paesaggi d'uso pubblico. E questa escavazione ragiona ovviamente con un comportamento diretto, con una reinterpretazione e reinserimento anche di un sistema vegetale che in questo momento, allo stato attuale delle cose, è completamente scomparso, è completamente assente. Il ridisegno costruisce sistemi di connessione, quindi la possibilità di ragionare su una ripresa proprio dello spazio di superficie d'acqua come area centrale e ragiona sui contatti diversificati che questo sistema di un paesaggio allargato riesce ad avere con delle azioni precise e specifiche nei confronti dei bordi di modellazione. Queste delle semplici azioni, l'uso appunto dell'escavatore aiuta a conquistare i bordi e a ridisegnandole, riuscendo a ridefinire questi ambiti, queste piazze d'acqua come elementi del paesaggio urbano del piccolo centro, collegandone le diverse parti, piegando i bordi, quindi lavorando affinché questo salto di quota notevole che c'è tra una decina di metri tra il piano di campagna e il livello d'acqua, profondo 40 metri, possa diventare un luogo su cui appunto riuscire a coniugare, quindi a spingere, a ricollegare le persone ad un'acqua che deve tornare a essere luogo domestico, luogo di fruizione. E così con le modellazioni, sempre più in una, come dire, temporalità controllata, che mi aiuti a capire che il luogo già in sé, come dire, è predisposto, ha delle caratteristiche che possono essere riempiegate, quasi che prima di arrivare al progetto ci sia una preoccupazione, cioè un'occupazione preordinata, quindi la possibilità di avvicinarsi a questa modellazione che tenga conto di quanto già il luogo propone e quindi che ne usi le caratteristiche svuotando, aggiungendo e modellando. Dimostrando in qualche modo con dei pesi delle misure che il valore posizionale, quindi il valore di luogo strategico dell'acqua, ha delle potenzialità molto elevate che in questo momento, soprattutto dal punto di vista delle cave e gli ambiti appunto nascosti, non viene valutato. E così come non viene valutato in un piccolo centro come il paese di Quinto di Treviso, che con 12.000 abitanti ha le sue origini in affaccio sempre a questo cordone d'acqua, in questo momento segnato da queste grandi vasche, un cordone d'acqua che è il fiume Sile. originariamente per la sua conformazione con una centralità di paese e di elementi principali, aiuto scusate intanto scompare, la villa, la chiesa e il centro storico, che nascevano in relazione alle superfici d'acqua. L'evoluzione sia viabilistica, quindi questa strada statale che ha tagliato, che ha diviso il paese in due parti, hanno fatto in qualche modo, hanno dato avvio, sono stati i generatori di nuovi sistemi aggregativi, di affaccio completamente diretto sulla strada e di navigazione totale rispetto appunto ai bordi d'acqua. La presenza anche qui di una cava, ma ormai storicizzata, nel senso che la fine dell'escavazione degli anni Ottanta, ha fatto sì che questo luogo, trasformato completamente nella sua morfologia, sia diventato un luogo dal valore ambientale naturalistico altamente elevato. Quindi ha fatto diventare nella sua storicità, quindi la capacità del fiume di gestire le temporalità e quindi di gestire questo passato negativo, è stato diventato praticamente un luogo d'eccezione, un luogo in cui appunto la qualità ambientale è superiore a qualsiasi altro lembo, in questo caso dettagliato del comune di Quinto di Treviso, ma diffuso a questa parte est della città stessa di Treviso. Le caratteristiche del luogo sono drammatiche dal punto di vista della sommatoria e della compromissione dei legami anche di vicinato tra le varie parti, cioè la parte residenziale, la parte di sfruttamento, della parte di viabilità, facendo diventare un classico esempio di sovrapposizione, qui c'è l'aeroporto, di funzioni che si sovrappongono, si contrastano le peschiere e costruiscono anche un indebolimento dichiarato e costante di una centralità che non è più la chiesa con il suo sagrato, ma è addirittura questa strada noelese con milioni di automobilisti che l'attraversano e tagliano in due appunto il piccolo centro. Il comune di Quinto ci incarica di insediare delle attività come appunto una zona sportiva, una zona residenziale, un piccolo museo dell'acqua, lasciandoci liberi di ricercare gli spazi dove insediare queste nuove attività. La scelta è venuta immediatamente in questo luogo ferito, ma già ricucito appunto per le sue qualità ambientali, che diventa strategico sia dal punto di vista della mobilità interna del paese, ma anche in qualche modo di una continuità culturale che cerca il più possibile di far passare lì le persone dove sono passate fino agli anni 50, di farle ritornare e di far usare questo sistema di bordi che stanno attorno al grande lago come una fruizione facile, una fruizione diretta e un elemento di collegamento tra appunto le due parti di città. Questo piccolo progetto ha ricevuto un premio piccinato per la pianificazione con un chiarimento, cioè una specifica, quello di aver aiutato, di comunicazione l'hanno definito, cioè aver aiutato le persone ad avvicinarsi a un luogo. Attraverso questo progetto in parte in corso di realizzazione con delle deviazioni alle volte pericolose, ma speriamo di tenerlo il più possibile intero, è diventato appunto lo stimolo di riscoperta di luoghi che noi davamo per assodati, per scontati se volete, ma che diventano invece una nuova vitalità e quindi un nuovo modo per muoversi all'interno del centro urbano. Usando tutto quello che c'è, usando i bordi con le loro qualità paesaggistiche, diciamo così, di percezione differenziata, di quote diverse, di fondali di una vegetazione continua tipica appunto del paesaggio fluviale, anche questo completamente abbandonato, ma che risistemate e facendo, come dire, parte della nuova percezione diventano la piazza principale del paese, la piccola dimensione che sta davanti al sagrato della chiesa si allarga a diventare lo specchio d'acqua, appunto la nuova piazza. Su questi bordi, bordi caratterizzati da dimensioni diverse, da profondità di vista diverse, diventano il nuovo luogo in cui insediare in maniera, diciamo così, temporanea, temporale, scandita e controllata, trasformando delle funzioni presenti. In questo caso il giardino acquatico è una vecchia peschiera, ora in corso di dismissione e dislocazione, in cui l'uso di un disegno già presente fa sì che, come dire, queste lingue di acqua e di terra forniscono il suolo per un museo dell'acqua, dove la vegetazione locale possa essere appunto reinsediata e vista attraverso questi padiglioni che mostrano appunto il luogo, lo illustrano, lo spiegano e fanno riavvicinare, ripeto ancora, le persone a questa superficie, a una superficie d'acqua, quindi a una piazza, diciamo così, mobile.